Buonasera, buonasera, come sta? Sì, sì, lo so, vi devo sempre disturbare ad ogni video, vabbè, lo so, ormai è abitudine. Lo vedete quel ragazzo lì a destra? Sì, sì, proprio lui, si chiama Tuono, è un ragazzo molto simpatico, ovviamente trovate il link in descrizione del suo canale YouTube, quindi mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale e lasciate anche un bel mi piace, cosa importantissima. Ovviamente trovate tutti i link in descrizione, basta, adesso non vi distorberò più, guardate il video molto 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 divertente, buona visione. Oh, le live, quando cazzo le fai? Sono ora in live, ma al dettaglio, cioè, ma al dettaglio. Oh! Ce la può fare? Arrivo, arrivo signor Tuono. Cazzo è tu? Salve! Prende la scheda, anzi, no, spari. Oh, cavolo. Io non ho un poppa! Oh, ma che embo, ciao! Mi è entrato nel box! Allora, segnala al giocatore. Ma che? Ma che? Atte, cheating, aspetta un minuto. Allora, segnala al giocatore. No, ma come fanno a prendermi in volo? Mi scusi. Mi devo tirare il medikit? No! Oh, come faccio? Oh! Ma da dove? Ma che? Aspetta! No, 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 no. Come? Aspetta, come sei morto? Voglio vedere? No, 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 no. Voglio vedere, dai, voglio vedere, aspetta. Voglio vedere l'altra live, vediamo come sei morto. Vediamo, vediamo. No, 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 ma veramente. Aspetta. Non rida, per favore. Buah, la madonna! C'è, ma da dove? Eh, vabbè, sì. Eh, vabbè, ma capisco che Arena vi giocati punti alle vostre madri e alle vostre sorelle. Però vuoi buttare pure i pantaloni e pure le mutande benedizioni. Un R bianco! Vai dietro, dietro, dietro! Dov'è? A terra? Oddio. Oddio, ho quattro di vita! Non voglio morire, so giovane. Ma dov'è Kufu? So giovane. Cosa faccio? Oh, no, no, no. Attenzione di vita, cosa posso fare? Io avrei un'idea. Quinto? No, no, no. Non lo so. Quinto? Cioè, non lo so. Non lo so. Ma un medikit qualcosa? Cosa? Niente. Tutta la colanguero. Non fare. No, 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 no. Fermo. Vattene. Molto silenziosamente. Oh no. Mi sta venendo l'ansia. No, 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 no. Così, ti hanno scamato. E niente. Non è vero. Sto lo scamato. Ma che cazzo vuoi? Aiuto. Dietro. No, 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 no. Non ho mazzo. No. No. Sì, sì. Chiamo per l'assicurazione per i controller. Sì, lo so. Abbiamo un controller lettamente bullizzato da un certo... Ciao, scimmio. No, no, ma non è possibile. Non è... Ma è mo' che faccio? Ma è mo' ci muori. Aiuto! Io qua non ci vengo più col cavolo, raga. Col cavolo che ci vengo qui. No, ma è infattibile. Non è infattibile. Qua ti squagliano come se non avessi niente addosso. Cioè... Ti sputano addosso e muori. No, 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 no. Sono il buco dentro. 46. No! È one shot, è one shot, è one shot. È one shot, è one shot. Ce la può fare. No, 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 no. Non ci credo, dai. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, ma non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ma deve scoppiare. No, ma se l'ha pure visto che l'avevo colpito. No, 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 mi provi a taccare. Ci provo. Vai, 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 vai. No, 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 no. No, 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 non ci provi, non ci provi. Non ci provo. Forse è una distanza più lunga. Ci provi. Oh, cavolo. No. No, 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 no. Ma cos'è? Ah, niente. Aspetti, lo prenderò la scheda. Se ce la fai è bella. Cambio di macchina. Vai, vai, vai. Vado, 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 vado. Oh, prenda. Oh, corri, 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 corri. Ci va dietro, ci va dietro, ci va dietro. Vai, 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 vai. Mamma mia. Oh, corri. Dove devo andare? Non ci credo. È uscito veramente da parco pacifico? Sì. A me, no, questa è 5.000 di oro. Ma io non li ho mai usati. Cioè, non... Cioè. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso... No, c'è gente. No, io me ne vado, eh. Prendi la macchina, andiamo. Dove è la macchina? Dove l'ha lasciata? Eccola, 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 eccola. Venga, venga. Io me ne vado. C'è gente. No, 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 no. Oh, no, 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 seta. Sarò il signor Giacanna, che cazzo è con me? Aspetti, tengo. Shhh. Ma ha voglia di scherzare? No, 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 no. Hai fatto il girare. Oh, oh, oh. Tu direi il 18. Oh. Ok. Tutto quella... No, 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 no. No, 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 mori. Scoppia, scoppia. Scoppia, 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 scoppia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. La pistola. Dopo. Vale. 19, 29, 41. Craccato. È entrato, mi è entrato dentro il box. 26. Basta, mi sono rotti i coglioni. Basta, basta, basta. Non mazza. Ma dov'è la sua scheda? Ma, ha qui ta... Ma... Aspetta, tu sei ancora vivo? Sì. Perché? Hai vinto? L'hai uccisi? No, no, no. Ti provo. Ucciso? No, 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 perché? No, ti spiego. Ho voluto quittare perché... Hai fatto bene. No, perché sai... Hai fatto benissimo, credo. Sì, si capisce, no? Sì, sì, hai fatto benissimo. Sono botto, sono botto. No, è gente... Sì, lo so, scusatemi di nuovo, ma vi volevo dire che questa partita, proprio questa partita, non ve la potete perdere. Mi raccomando, guardatela fino alla fine. È qualcosa di incredibile. Buona, buona, buona visione. Mamma mia. Non ci voglio credere. È gente, non ci voglio credere. Jump, jump, jump. A posto? Ho tre medikit, non ti preoccupare. Eh, io sono morto. Perché altro cerchiamo di trovare... No, 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 venga, c'ho tre medikit. Venga qui. Eh, ma non ce la faccio. Fatelo, fatelo. Troppo lontano. Io mi ero già avvicinato in safe. Guardi, guardi, no, ma che... Ma non puoi dire seriamente. Aspetti, forse sì, no, non c'è la faccio. Aspetti. Le lascio il loot, le lascio il loot. Ma è seriamente serio? Sì. Ok. No, no, ma se lo faccio uno. Aspetti le pende. C'è un le pende. Non ci credo. Aspetta. 3, 2, 1. Oddio. Ho le pende. Fattene ancora, fattene ancora. 3, 2, 1. Te lo lancio preciso, preciso. Guarda. 3, 2. Grazie. Corra, corre, corre, corre. E la madonna, corri. Corri, corri. Mamma mia, non ce la faccio. Sì, sì che ce la fai, fattelo. Prego, fattelo. Te ne lascio uno per strada. 8, 7. Ok, questo qua ce la faccio. Ma, guarda la safe. L'hai visto dove ti ho lasciato il prossimo? Sì, sì, l'ho visto. Ok. Vediamo se ci ha lasciato una jump, questo, qualcosa. No, qua non c'è niente. Devo farmelo, devo farmelo. Eh, a 20 si fa. No, no, non lo so. 15. Oh, qua c'è della carne, eh. Se riesce. Qua più avanti. Ok. Ancora. Ah, no, sono un coglione. Oddio. Sto per prendere la carne. Un falò ma non lo uso. Se hai già fatto il medikit? No, me lo faccio ora. Se lo facci, se lo facci. Vado. Ma tu guarda che safe di merda. Eh, è difficile. Eh, muori parte. Aspetta, cos'è quello? Mi servirebbe un motoscafo, uno scarro, wow. Eh, sì. C'è un motoscafo. No, ci sono tre carni. Lei non ha più niente, vero? Sì, ho un medikit ancora. Oh, vedo della carne qui in acqua e medi vicino allo scar. C'è un loot vicino. Aspetta. Venga, venga, venga. C'è morì il motoscafo e qua c'è il falò. Venga, 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 venga. Vengo? Sì, venga, venga. Se faccia questo qui. Venga, 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 venga. Venga, per favore, venga. Aspetti. Una cassa, ti prego. Vende, vende. Vai, 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 vai. Ma io se ce la faccio. Vieni subito, subito, subito qua. Subito qui. Fatene sul motoscafo, vieni. Fatene sul motoscafo. Dai, dai, non abbiamo tempo. Vada, 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 vada. Se vinci le compro una pizza, fa bene. Che casino, che casino, non possiamo fermarci. No, no. Dì c'era un falò, mi ricordo. No, no, no. C'è anche gente davanti. Altre bende, si deve fermare, si deve fermare, non ce lo facciamo. No, 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 aspetta, un falò, sono morto, un falò, sono morto, un falò, sono morto. Mi può restare volendo, venga. Mi può restare... No, 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 sto scherzando, se ne vada. Se ne vada, se ne vada, se ne vada, se ne vada, mette il turbo, signore, mette il turbo. Non c'è il turbo. Non ci voglio credere. Cazzo, era l'ultimo. Terzi? Terzi? Non ci voglio credere. No, 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 no